Allora, il lavoro certosino lo diceva sempre mia mamma, perché in realtà c'è la cura per ogni dettaglio, che va da scelta proprio di una squadra, dalla canzone, quindi gli autori, produttori, anche il testo, cioè i vari testi che comunque ho interpretato, alcuni anche scritti, le foto, tutto, tutto. Penso che sia forse il primo lavoro dove ho messo testa, cuore, intuito, tutto, tutto. Infatti si sente, secondo me è un album molto personale, sempre con la tua positività, devo dire la verità, sentendolo è proprio quasi liberatorio. Dimmi un po' di questi testi che hai scritto, insomma, come è stato per te collaborare? Allora, innanzitutto bellissimo. Avevo provato con la scrittura a raccontare delle cose, poi in realtà è diventato in un certo momento preciso della mia vita una necessità e raccontare un qualcosa che mi era accaduto e farlo attraverso la musica, che poi è il mezzo che ho scelto per poter parlare, perché mi sento più comoda. Per me è sempre abbastanza complicato parlare di me. Quindi quel blocco che c'è stato in un certo periodo di tempo, che poi ha visto coinvolto il globo fondamentalmente, attraverso la musica che è arrivata prima, sono riuscita a capire e a volermi raccontare, avevo la necessità di raccontarmi sia attraverso brani che ho scritto e anche non. Infatti adesso tu hai detto che non ti piace parlare di te io, cioè vorrei che a parlare fosse la musica, però ti volevo dire che trovo molto belle quelle parentesi, a un certo punto nel disco si sente anche un audio molto personale ed è come una finestra che si apre proprio sul tuo mondo. Ci sono delle pause molto distensive in cui secondo me tu ti metti molto a nudo, ma anche proprio come le canti, secondo me si sente che c'è cuore, c'è tutto. Con lei poi è complicato. E con lei ancora è un tasto. Ok, prossime domande. No, nel senso che ho sicuramente fatto pace con quella parte di me che hanno sempre visto tutti, molto emotiva. Non che a oggi non lo sia più. Lo sono, però ecco come hai detto tu, no? Io mi sono messa a nudo, però l'ho fatto in maniera molto consapevole, nel senso che prima indipendentemente dal tempo, dal clima che trovo fuori, andavo nuda, quindi ero più soggetta a sentire o tanto freddo o tanto caldo. Ad oggi so come, quando farlo e perché. Ho sempre, ho trovato in questi due anni, diciamo, il giusto compromesso dal volermi proteggere e voler raccontare di me. E l'ho messo poi in tutto accade, perché è accaduto proprio questo. Tra l'altro bisogna sentire l'album, secondo me, brano dopo brano, perché è proprio un disvelamento costante, una positività. Cioè per me sì, fondamentalmente. Anche quando insieme a Dario abbiamo scelto, insomma, la tracklist, e quindi mettere i brani dal primo all'ultimo era proprio per raccontare una storia. Infatti. Consiglio anch'io di ascoltarlo tutto dalla prima all'ultimo. Grazie. Traccia come un romanzo, come un libro. Grazie. Allora, volevo capire che significato ha questo album per te in questo momento, dopo quello che abbiamo vissuto, e soprattutto quanta voglia hai. Insomma, ti aspettano il 2022 delle date pazzesche. Traciamo le dita, però immagino, insomma, una bella botta, ecco. Sì, diciamo che ogni giorno mi carico sempre più di... A pallettoni. Per esplodere di gioia, ecco, sul palco, insieme alla mia gente, insieme a quel pubblico che c'è sempre stato, che mi ha supportata dall'inizio, e non solo, no? Perché poi la cosa meravigliosa della musica, e che tante volte può arrivare anche dopo, però arriva, no? E quindi immagino sempre quel giorno. Immagino come sarà, perché non è uno show, è lo show. E io non vedo l'ora di raccontarmi, tanto che l'altro giorno con il mio direttore artistico quando stavamo facendo la scaletta, no? E io ho detto, e adesso come faccio? Cioè, come si fa a far durare un concerto in meno di sette ore? Nel senso, col sangue alle orecchie? Cioè, può fa? Perché no? Non sarebbe giusto? Però lo sai che è stato complicato, e ancora oggi è complicato, perché non abbiamo finito la nostra scaletta, no? Però c'è talmente tanta voglia di raccontare, non la differenza che c'è tra l'ale di oggi e l'ale di 13 anni fa, perché c'è stata una metamorfosi, un cambiamento, e c'è stata una, come ti posso dire, una transizione da quella che era l'ale a 21, a 22 anni, insomma, e quella di oggi 35. Però c'è stata un'evoluzione, piano piano, io ho sempre fatto, secondo me, le cose con molta calma e serenità. Quindi stiamo cercando di capire come fare a raccontare, perché è bello oggi poter dire che è complicato, perché comunque c'è stata tanta musica nella mia vita, ho avuto la fortuna veramente di raccontarmi tanto attraverso la canzone, no? Quindi questa cosa mi entusiasma e mi spaventa, perché dico, non voglio lasciare nulla dietro, oppure togliere un brano piuttosto che un altro, perché questo, a questo sono legata, perché dai, no, a questo, no, vabbè, oddio, non ne sto uscendo più, ma so che sarà un giorno meraviglioso. Siamo pronti a un concerto di 11 ore, tranquilla. Sì, no, non preoccupate, quanto dura? No, sono 12, siete pronti? Cuscino, cioè ci saranno delle ragazze che servono dei cuscini, il plaid, metti il plaid, Alena. Delle mascherine, se vi dà fastidio la luce, perché comunque ci saranno anche tante luci, ci saranno tanto entusiasmo, sì. Quanti, ultima domanda, riguardandoti indietro, proprio in riferimento a quello che mi hai detto ora, qual è la cosa più bella che ti senti di aver ottenuto da quella che hai chiamato un'evoluzione? Il ricordo più bello che hai di questo percorso? Ma ad oggi ti posso dire che sono felice, ho tanti ricordi belli, tanti non li ho proprio, di alcuni posso addirittura sentirne l'emozione, no? Però sono incasinati questi ricordi, sono successe talmente tante cose meravigliose. e ad oggi però sono contenta che le due ale abbiano fatto pace. E ad oggi mi posso guardare allo specchio vedendole tutte e due insieme.